Ci risiamo, il Milan ieri sera Dortmund ha fatto la stessa partita giocata qualche settimana fa contro il Newcastle, creando tante occasioni da gol ma senza segnare. Infatti anche ieri sera è arrivato il secondo 0 a 0 esecutivo che porta i rossoneri a due punti in classifica. Milan che meritava ampiamente la vittoria come la meritava contro il Newcastle però alla fine ci ritroviamo in classifica a due punti invece dei sei che meritavamo ampiamente. A questo punto le due partite col PSG, la prima a Parigi, diventano determinati, fondamentali per il proseguo del cammino europeo della squadra rossonera. Bisogna vincere perché la vittoria del Newcastle ieri sera per 4 a 1 col PSG ti impone di andare a Parigi e fare punti. Sinceramente il mio pensiero questo il Newcastle visto a San Siro e il Borussia Dortmund visto ieri sera erano ampiamente alla portata del Milan rossoneri superiori ad entrambe le squadre. Comunque al momento siamo a due punti andiamo avanti e sempre forza Milan.